Sono sei gli indagati per la morte del giovane Michael Guttin, 23enne originario di Vittoria, rimasto folgorato il 17 luglio mentre si trovava a lavorare in un impianto serricolo ad Eboli, in contrada Santa Cecilia. Titolare delle indagini è il sostituto procuratore Claudia Dalitto della Procura di Salerno, che ha emesso avviso di garanzia nei confronti di sei persone, titolari o amministratori delle aziende che stavano eseguendo i lavori e nei confronti del responsabile del cantiere di Santa Cecilia. A confermare le ipotesi delle prime ore, l'autopsia effettuata dal medico legale Giuseppe Consalvo. Michael è morto fulminato.